Ciao ragazzi, oggi vi propongo una sequenza tecnica, tre gestualità, un arresto di partenza, un cambio di direzione e una fina. Prima ne lavoriamo singolarmente, ogni cinesino corrisponde ad una gestualità, lavoriamo sulla frequenza degli appoggi andando ad aumentare quella che è la ripetitività del gesto per impararlo meglio e soprattutto per essere più rapidi in partita, poi la mettiamo in sequenza, guardate. Le abbiamo fatte singolarmente. Adesso le mettiamo insieme per sfruttare queste gestualità in progressione e in partita. Fate questi gesti tante volte per aumentare la vostra competenza su questi gesti per essere poi efficaci in partita e farli nella maniera più rapida e veloce possibile in modo da vincere tutti i duelli. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ciao ragazzi!